Allora, ciao a tutti, buonasera, sono Alessandro e per chi non mi conosce provo ogni tanto a fare qualche foto agli animali. Di sicuro qui, dal punto di vista tecnico, siete decisamente migliori di me. Io uso un'impostazione per le mie foto, che è sempre quella massima apertura, isoautomatici e regolo la velocità. Perché? Perché gli animali si muovono, gli animali non so quando arrivano e non so soprattutto se li vedo. Questo è quello come io scatto. Adesso ci arriviamo a scattare. Ho cominciato poco tempo fa, sei o sette anni, sei o sette anni e ho iniziato facendo foto alla Via Lattea. Un'uscita, l'ho odiato fisicamente per il semplice fatto che sei ore di stare fermo a guardare la macchina e faccia tutto per conto suo e otto ore, se mi ricordo bene, di post-produzione per tirar fuori quattro puntini su uno sfondo scuro. Non era per me. Venduto tutto e passato ad altra cosa. Provato a fare street photography? Non era per me assolutamente perché decisamente uno non mi trovo tanto a mio agio andare a chiedere le persone il permesso di farle, di fotografarle, di ciao, buonasera, di poterle pubblicare volendo sui social e via discorrendo. Rimaneva solo gli animali. I paesaggi neanche tanto per lo stesso problema, per me, del fatto di troppo statico. Sì, la camminata per arrivare, ma alla fine stai lì, fai una foto e potrebbe anche essere sufficiente. Un giorno sono andato a Torino, mi sembra, a trovare dei parenti, parco il Valentino, faccio la foto uno scogliattolo e da lì non ho fatto altro, solo e esclusivamente animali. Premessa doverosa, per fare fotografia naturalistica bisogna camminare, bisogna caricarsi chili e chili di attrezzatura e sperare di vedere questi famigerati soggetti. Le zone... Adesso, ah, siamo tutti, ci sta pure Peppe. Ciao. In Italia potrebbe sembrare facile fotografare gli animali, non è così. Ho avuto la fortuna di andare a fare un safari in Sudafrica, immaginatevi in una settimana più di 15.000 foto di cui la prima è stata un leopardo, la seconda il leone e poi giraffe e tutto il resto. In Italia andare a trovare gli animali è veramente complicato. Come vi girate ci stanno persone, case, trattori, campi coltivati, quindi ci rimane solo, esclusivamente, se vogliamo fare qualche cosa di mirato e di un pochino, diciamo, artistico, i parchi nazionali o le riserve che siano. Nelle zone nostre il Bicco, il Monte Bove per i Camosci è il massimo e ve lo posso dire perché ho fatto chilometri e chilometri su tutte le Alpi e di Camosci ne avrò visti tre. Qui da noi ci dormi praticamente in mezzo ed è bello, è bello proprio perché anche se da noi l'antropizzazione è abbastanza forte, soprattutto sui simillini, non si sa per quale motivo sono davvero tranquilli e si possono fotografare anche, ve li faccio vedere, anche molto da vicino. Qui, per carità, io ho un 500, ma qui stiamo a 15 metri di distanza, lui sta lì tranquillo, si fa la sua vita senza nessun tipo di problema. Se vado a zoomare, queste sono foto preparate per i social, quindi sono molto compresse, 1350 pixel, quindi se io vado a ingrandire vedrete sgranato. Ci arriveremo. Allora, innanzitutto dobbiamo capire che il soggetto, prima di fotografarlo, come dicevo, va trovato. Per trovarlo come facciamo? Dobbiamo studiarlo. Sfortunatamente bisogna studiare tipo scuola. Quando si fotografa bene il cervo? Quando il camoscio? Dove? Perché in quel periodo e non in un altro? Cervo, andiamo a settembre, giù in Abruzzo e li fotografiamo, come ho detto prima, a chi c'era, a 10 metri, anzi sono loro che ti vengono incontro e li troviamo, eccoli qui, un pochino ci arrivo. Qui stava tranquillamente fermo e ti guarda e aspetta quasi di essere fotografato, sta in posa, sta in posa durante il bramito. Situazioni particolari si trovano in posti particolari. Per trovare posti particolari bisogna camminare. Alzata, presto, bisogna arrivare prima dell'alba, posizionarsi. Sfortunatamente in determinati posti, l'abruzzo in alcune zone, tutto l'arco alpino, senza esclusione, bisogna fare l'appostamento. Ti siedi, ti copri con la rete mimetica, mimetizzato tu al massimo, da amici che lo fanno anche per lavoro. L'importante è non tanto essere vestiti mimetici, quanto scuri, e l'importante è coprire faccia e mani perché sono bianche e l'animale ti vede. Qualsiasi tipo di animale, capriolo, camoscio, vede il bianco e viene attirato da quella zona e si allarma, più o meno. Ripeto, lo stambecco e il camoscio sono molto più permissivi. Il cervo in determinate zone. Fate il cervo nei sipillini. Io in sette anni non l'ho fotografato mai. Mai. Mai, mai. Luce è riuscito, non so come ha fatto, però io in sette anni non l'ho mai fotografato. In abruzzo te li trovi così. Però vai a fotografare il cervo sulle Alpi, complicato anche lì, bisogna appostarsi. Come ci appostiamo? Allora, la cosa di massima è stare il più possibili ai bordi delle radure. Gli animali escono dal bosco perché si sentono sicuri, vanno nelle radure, mangiano e se la tengono sempre alle spalle per avere la sicurezza che dietro è da dove sono venuti e non c'è nessuno che li può attaccare. Tu ti devi mettere sfortunatamente davanti, possibilmente contro vento e contro sole. Sembrerà strano. Un caro amico non riesce a fotografare l'aquila perché l'aquila lo vede attraverso l'obiettivo, vede l'occhio attraverso l'obiettivo e quindi l'aquila gli scappa via. Sono sei anni che sta cercando di fotografare l'aquila e ogni volta da lui stato che sta il nido deve mettere obbligatoriamente una copertura davanti all'obiettivo quando è in posizione, apre l'obiettivo, scatta e richiude perché se no lo vede e scappa via e non ritorna. Questa è l'aquila, l'aquila è un soggetto complicato. Io in sette anni che faccio questo mestiere, lavoro, questo hobby, il lupo non l'ho mai cercato ma ho sempre sperato di vederlo. L'ho fotografato quest'anno una volta in sette anni che faccio uscite più o meno settimanali anche più volte a settimana. Se amici zoologi gli dico mi porti con te a fotografare il lupo, lui mi risponde ed è uno di Tolentino che vive in Abruzzo, sicuramente lo conoscete Paolo Forconi, mi dice io non faccio appostamento per il lupo perché il lupo detto delicatamente va a culo. Cioè il lupo se vuole ti vede e ti sente a chilometri di distanza. Io l'ho fotografato a 300 metri, spero di trovarlo velocemente, ma eccolo qua. Ce ne erano cinque in quel giorno, di fronte a me ce ne erano cinque che ululavano ad un altro branco di lupi dalla parte opposta della valle. È stata lì mezz'ora, sono stati lì mezz'ora, una cosa incredibile, mai più visti. Quel giorno dopo sette anni si sono fatti vedere e io mi reputo in determinate situazioni fortunato. Quindici volte in Abruzzo per fare l'orso l'ho visto dieci volte, ma dieci volte da qui a quindici metri. Quindi mi reputo da questo punto di vista fortunato. So dove andare a cercare gli animali, quali periodi andare, eppure per lupo, orso, anche il camoscio in Abruzzo, abbastanza complicato, a meno che non si va in determinati periodi. Se comunque anche sapendolo, la difficoltà a trovarlo effettivamente c'è e ci sta sempre. Vado sui Sivillini da sette anni, so dove stanno, ma lo so al centimetro. Negli ultimi sette mesi li ho visti due volte e so che stanno lì. Solo che la neve e i lavori dell'acquedotto che stanno rifacendo, passo cattivo, c'è un gruppo di cinquanta camosci, negli ultimi sei mesi li ho visti una volta. Tu c'eri mi sembra. E' stato quel periodo di novembre che c'era la neve. Eravamo io e lui, fine, con quindici, venti centimetri di neve e sti camosci che si sono degnati e fassi vedere. Il problema nostro di fotografi, chiamiamoci, è che dobbiamo necessariamente conoscere, come dicevo, e avere la pazienza e la perseveranza. Perché stare lì dieci minuti puoi essere la persona più fortunata del mondo e riesci a scattare. Se no, ci vogliono, non dico mesi, non dico anni, ma settimane su settimane, conoscendo dove trovarli. E ve lo dico perché l'ho fatto sulla mia pelle. Per fotografare il camoscio io ho camminato per la prima volta almeno quindici giorni, sempre sulla stessa cresta. Io guardavo a destra e lui stava a sinistra e non lo vedevo. A un certo punto mi giro a sinistra, casualmente, perché gente mi diceva guardali, ce ne stanno cinquanta e ce l'avevo a tre metri. Lui che ha fatto? mi guarda, si allontana di dieci metri e si rimette seduto. Fotografare gli animali è complicato perché in primis non si mettono in posa. Magari ti passano velocemente davanti e non hai tempo di mettere in regola l'ISO, controllare l'apertura del diaframma. Per questo all'inizio ho detto ISO automatici, massima apertura del diaframma e giochiamo solo, esclusivamente sulla velocità dell'otturatore, perché non abbiamo tempo di pensare e di fare la composizione già in camera. Lo dico all'infinito, la composizione in camera sarebbe meglio, ma se ti passa un lupo che sta lì e te lo trovi casualmente di fronte, non hai tempo di pensare, prendi e scatti. Su 100 foto 98 saranno fuori fuoco, quelle due magari le salvi. poi giochiamo in post produzione, cerchiamo di rifare quello che in campo non siamo stati in grado di fare. Se scorriamo, questa per dire è un cervo che sta fermo lì, puoi fare tutto il tempo, perderci anche tempo per fare la composizione, ma se ti trovi con un fratino che si muove alla velocità e alla luce ed è così, grosso quanto è un pulcino, è complicato provare a fare direttamente in camera una composizione. Ecco qua il gruppo di lupi che vi dicevo prima. Questa è stata una cosa, vedete? Ero a 100 metri, 150 metri forse, di 4 uno mi punta, subito, appena ho fatto il primo scatto, mi ha puntato. Cerchiamo di capire dove sta? Sta lassù, non si muove perfetto, allora stiamo tranquilli. Però di 4 uno mi ha sempre puntato, fisso, il capo. Stava lì e mi guardava, lui non ha mangiato. Quando gli altri se ne hanno mangiato e se ne sono andati, è venuto verso di me, sarà arrivato a 50 metri, mi ha puntato e se ne è andato. Per mezz'ora questo, sempre così è stato. Ecco questa, l'orsa marena un paio di mesi prima che la uccidessero. Sapevo dove stava, l'ho vista, le guardie forestali non ci facevano avvicinare giustamente, poi hanno fatto le cavolate dal mio punto di vista perché lei si avvicinava tranquillamente per mangiare le amarene, le ciliegie a 50 metri da dove stavamo noi. Noi stavamo, eravamo una diecina di fotografi, guardie forestali che ci facevano tipo, che ne so, i gelerini alle partite di calcio e questa stava a 300 metri. Come si è avvicinata? Sono saliti e l'hanno scacciata con la scacciacane praticamente. Posso garantire che tante situazioni, noi fotografi ci comportiamo meglio degli abitanti del posto. Qui stavo a Villalago e poi ci stai pure te, giusto? Non è stata una bella giornata perché ecco non ce l'hanno fatta vedere come Dio comanda, ve la faccio vedere anche più, cerco di andare indietro per trovare altre foto di amarena perché posso garantirvi che vedersi l'orso con quattro cuccioli a 15 metri è un qualche cosa di unico. Dopo la cerco perché ci mi sta tantissime. Qual è la cosa bella di questo genere per me? Adesso le faccio vedere, scorro così e via. Questa per dire era una foto, un fenicottero alla sentina e si è fermato per una settimana, stato giù, gli ornitologi del posto mettevano su Facebook mi sembra ci sono nuovi arrivi, fenicottero, porciglione, si va giù. Se si è persone tranquille e anche educate, qui stavo a 10 metri dall'uccello che stavo lì tranquillo per tre o quattro ore. Situazioni sempre lì, ecco, quelle garzette oasi del Viano. Questa vabbè, qui stavo in un'altra situazione. Da solo. Allora vado avanti dicendo che cosa mi ha portato a capire la fotografia naturalistica, anzi, cosa mi ha fatto capire la fotografia naturalistica? In primis l'amore per gli animali, per la natura, capire che non tutto ci viene regalato perché una foto del genere questa è regalata perché stava veramente a bordo strada, tranquillo, ma una foto anche semplicemente questa è una foto che per farla un'interazione tra madre e cucciolo, cucciolo di due settimane, ci ho messo sei ore lì e loro stavano lì fermi, però lui dormiva, lei mangiava, mangiava lui, si nascondevano. Per fare una foto o sequenza di foto sei ore lì ad aspettare. Io non sono assolutamente paziente, assolutamente. Per fare questa tipologia di foto bisogna essere oltre che pazienti perseveranti tornare sullo stesso posto dieci, venti volte anche avendo fatto... Io se vado a fare camosci non faccio 50.000 foto di camosci, ci vado nella speranza di fare foto che non ho fatto ed è complicato fare foto che non hai fatto sempre sullo stesso posto. Ci si riesce? No, non ci si riesce perché è complicato, bisogna aspettare veramente dei momenti particolari di luce, di situazioni, interazione, non mi ricordo se c'hai idea, situazione di camosci altissimi, erano non fotografabili, a un certo punto se ne vengono due che cominciano dal Monte Bove, dal Monte Bove Sud, quindi da 2002, partono, si rincorrono, arrivano fino praticamente a Vallinfante, alla piana Vallinfante di corsa, per quanto puoi essere veloce e rapido, gli corri dietro e fai forse una foto sfocata, oppure mezza testa, la coda, quindi ci stanno anche situazioni dove sarebbe fantastico fare una foto, ma è fisicamente impossibile fare. Può essere la persona più veloce del mondo, la macchina fotografica, ultima generazione, ma se non c'hai tempismo, oh, non stai attento, a me è capitato, sto a guardare la foto che ho scattato prima e magari succedono qualche cosa di particolare. Consiglio, fate fotografia naturalistica, mai guardare le foto appena scattate, ci avete tutto il tempo, non è la foto analogica come dicevamo prima, ne scattate due, tre mila, quello che volete e ve le vedete a casa. Solitamente io su un'uscita all'inizio facevo tre mila foto ad uscita, adesso sono arrivato a farne massimo cinquanta, di quelle cinquanta ne salvo tre, forse, di quelle tre ne postproduco una. Attrezzatura, non attrezzatura, sì, l'attrezzatura serve, è importante soprattutto per noi, macchina fotografica veloce, megapixel quanti ne volete, ma non è quello, l'importante e la cosa fondamentale è avere più millimetri possibile, più millimetri possibile, più costi che vengono a gravare sulle nostre tasche. Un obiettivo buono per la fotografia naturalistica che può essere anche uno zoom, comunque stiamo su un'ottica dai duemila, duemila cinquecento euro in su, che per tanti può essere niente, ma per tanti può essere anche due stipendi, tra questi io, quindi io per comprarmi un obiettivo serio, ci ho messo due anni, no, tre anni, cento euro al mese, vado a spendere per un obiettivo vecchio di vent'anni, come dicevo, quattromila euro. Un mattone di sei chili e mezzi che se mi si rompe domani l'autofocus lo metto come soprammobile, perché ormai è fuori produzione da un secolo. Però, se io vado a vedere, tra questa foto fatta con l'obiettivo, lo zoom, lo zoom, lo conto i peli, e questa foto, per quanto bella, fatta con uno zoom, la differenza è abissale. Cioè, c'è poco da inventarsi, cioè non c'è confronto tra un obiettivo zoom che sia, per quanto buono, e una lente fissa. Quando vi dicono che non è l'attrezzatura che fa la foto, sì, ma nella fotografia naturalistica l'attrezzatura la fa la foto. Scusatemi, non è che fa la foto. Vedete la differenza tra un'attrezzatura, non dico di base, ma anche di medio livello, e un'attrezzatura seria, fatta appositamente per quella tipologia di foto. Esempio, l'anno scorso in Gran Paradiso, tre giorni sotto la neve a meno 20, la macchina fotografica intatta, senza nessun tipo di problema, l'obiettivo bagnato, zuppo, tutto quello che volete, tornavo a casa, appoggiato sopra al letto, mai sopra le termosifoni, sopra il letto si asciuga in tre ore e l'obiettivo era perfetto. Compagni, amici miei che stavano lì, ci hanno avuto problemi di ghiaccio, non muffa, condensa e cose problematiche che poi vi portano a non poter scattare. Adesso non dico che dovete andare a comprare forza un 500 f4. Però, ripeto, a me è capitato, e lo posso dire sulla mia pelle, se si vuole fare in questo ramo fotografico quel salto, quel salto ve lo fa fare l'attrezzatura in determinate situazioni. E poi, è brutto da dire però, la post-produzione. Per quanto riguarda me, per quanto riguarda tutto quello che ho imparato in sette anni, in quasi otto oramai, è sì, conoscere il soggetto, fare la foto, quel 30% in più poi te lo dà la post-produzione. E imparare a fare la post-produzione, per anche salvare una foto fatta a 32.000 ISO, perché sono le 5 di mattina e ancora il sole non è uscito, ma c'hai l'orso lì, è importante se non fondamentale, perché magari l'orso non lo rivede più. Quindi è veramente... cioè, se io non avessi conosciuto un pochino di post-produzione, la foto dei lupi era inutile farla, lontanissimi. Se la vedete bene è anche fuori fuoco, perché comunque sta a 200 metri. Non c'ho una mirrorless, c'ho una Canon, quindi Canon va male dal punto di vista dell'autofocus. Canon 5D4, per quanto possa essere attento è, basta sbagliare di un metro a 200 metri di distanza, comunque la foto la sbagli. Per il mio standard di foto, ripeto, su 500 foto ne salvo 5, quando è tante. E infatti c'è per me 20 chilometri, 3 foto, tornare a casa con quelle 3 foto, ma hai fatto 20 chilometri, 20 kg di zaino sulle spalle, magari stavi a 3200 metri su al Gran Paradiso, vedi tutto, stai da solo, perché io vado da solo nel 90% dei casi, magari non è proprio il massimo, però vado da solo, vado con i miei tempi, sia dal punto di vista della velocità quando cammino, come e dove mi apposto. È più facile stare in silenzio, anche perché per quanto possa essere, vai in due, scambi due chiacchiere, vuoi fare il lupo, lascia perdere, hai già perso quando sei sceso dalla macchina, se vuoi fotografare il lupo, vuoi fotografare l'orso, può andare bene, perché oltre ad essere completamente cieco quasi, diciamo, non gli danno fastidio tanto i rumori, basta che non siano rumori improvvisi. Come sai questo? L'ho studiato, ho chiesto ad amici, zoologi, comprato libri di animali specifici per lupo, per l'orso, per la vifama. Conoscere gli uccelli è importantissimo. Io per dire non li conosco, sì e no, finicottero, garzetta e airone me li intreccio sempre, sono identici, sono bianchi, uno c'è il becco nero, uno c'è il becco giallo, ma se stai lì scatti, non pensi al becco nero o becco giallo, pensi a scattare. Però ecco, questa è l'oasi di Alviano, forse il primo giorno che sono andato a fare le foto di fotografia naturaleistica, me lo ricordo pure perché è il compleanno mio padre. 28 gennaio 2017, quel giorno le prime foto di fotografia. C'erano, esagero, 300 aironi. Ci sono ritornato mille volte su quell'oasi, quello è stato l'unico giorno che c'erano così tanti uccelli lì, così tanti soggetti, una cosa indescrivibile. Moriglioni, garzette, cascate. Io vi parlo di Alpi, vi parlo di Sibillini, vi parlo di Abruzzo, posso parlarvi del Sudafrica e vi posso garantire anche che tantissime foto, le ho fatte dal terrazzo di casa, durante il Covid, dal terrazzo di casa Pogliana a 100 metri di fronte a me. Gli animali, se vogliamo e se stiamo attenti, li troviamo dappertutto. Certo, non trovo l'orso qui, non ci trovo il leone, ma dal punto di vista della vifauna più o meno ci troviamo quasi tutto. Sembrerà stupido da dire, ma fotografare bene un pettirosso non è così semplice. Il pettirosso è un soggetto semplicissimo da fotografare. Non so se ce l'ho qui sparsa. Questa è sui Sibillini, l'anno scorso c'erano meno 10 gradi e mezzo metro di neve. Stavo da solo, l'unica foto che sono riuscito a fare, perché stavano lontani e la nebbia andava via, li copriva. E anche questo, magari se fai fotografia astronomica non parti neanche se è nuvoloso. Quando è brutto tempo, io parto perché sono sicuro che c'è meno gente. Quindi è più complicato l'approccio perché è freddo, piove, c'è da camminare, i pesi sono sostenuti perché è inutile dirlo. Non tutti possono fare mille metri di dislivello in un'ora, perché è inutile. Se io mi voglio svegliare, devo arrivare prima all'alba e l'alba è alle sei, devo arrivare alle cinque e mezza. Magari devo fare anche due ore di macchina e devo camminare. A un certo punto, anche dal punto di vista fisico, bisogna essere, non dico prestanti, ma abbastanza allenati. E ci troviamo in situazioni in cui, qui da noi è facile fotografare i camosci a noi è facilissimo. Si arriva con la macchina fino all'arrivo di, come si chiama quella lì? Valle Piana, Selva Piana, sopra le saliere comunque. Sopra i fucii salieri ci si arriva con la macchina. Da lì è un chilometro a piedi e abbiamo i camosci intorno. Ma branchi di camosci, tantissimi, veramente è difficile da figurarsi di quanti ce ne stanno. Non c'era niente, scommetto, immaginavo. Solo che una coppia veniva giù e le avevano fotografate due e stavano nascoste. Allora, la situazione... Come detto lei, davanti al bosco abbiamo chiesto un po' di consigli, però purtroppo non è che c'è una regola chiusa, no? Allora, io ripeto, vado su tantissime volte e so per certo perché li conosco, so anche dove c'hanno, non dico dove c'hanno le tane più o meno, ma da dove sbucano stanno a passo cattivo, c'è un gruppo di una cinquantina, salendo sempre da quel punto all'incrocio che porta verso il Cristo delle Nevi. Invece di girare a sinistra si va dritto e si arriva a passo cattivo. Quindi da passo del lupo siete saliti. A sinistra, ok. Allora, lì c'è un gruppo di... A sessantina di Camosci. Sul Bicco ce n'è un altro di una trentina, quaranta, che salgono da sotto, da quello che era il Canalone, un tempo dove si sciava, lì. Poi ce n'è... quello più corposo sta a Monte Bovenord, ma dalla parte dove c'è la riserva integrale, quindi verso il Pizzo Berro, quella zona lì è riserva integrale. Lì ce ne stanno centocinquanta, forse duecento in periodi di nascite. Però volete fotografarli facilmente? Passo cattivo. Al novanta per cento, due o tre si vedono sempre. Sempre. Allora, si arriva con la macchina praticamente fino alla sbarra. C'è la sbarra. Dove sta l'hotel Ambassador? Ce l'avete presente? Lì sotto, salendo dalle saliere, ci sta una strada sterrata verso la fine. Allora, fine del parcheggio delle saliere, strada in salita, si va dritti. Praticamente a un certo punto c'è una sbarra con una strada imbrecciata. Si può andare tranquillamente finché non c'è la neve. Quando c'è la neve la chiude. Da lì, se siete sfortunati, sono quattro chilometri e mezzi, più altri due per arrivare al punto. Se no, arrivate, evitate i quattro chilometri e mezzi, arrivate alla sbarra che sta sopra al rifugio delle saliere. Proprio dov'esso ci sta, quelli che ballano le biciclette, lì. Da lì è... 40 minuti se andate piano e ve li trovate intorno. E ci stanno sempre. Se siete fortunati ci stanno anche i lupi. L'ultima volta che ci ho fotografato. Cervi, uno a chilometri di distanza. Camosci, caprioli e cinghiali, tutti insieme. Erano le 5 e mezza di mattina e c'ero io e basta. Però sì, il problema di quelle zone è che alle 8 bisogna andare via. Perché alle 8 arrivano gli escursionisti, arrivano quelli in bicicletta, arrivano quelli con i cani. Io amo i cani, ma i cani sciolti sui sipillini o su tutti i parchi è meglio evitarli. Però ce stanno e quindi ce li teniamo. Ma se arrivate lì alle 7 avete già fotografato qualche cosa. Ve lo... non dico ve lo do al 100%, ma all'85-90% sicuro. Si trovano. Se volete fotografare i camosci dalle parti nostre, se volete fotografare i cervi, la zona è ballinfante. Lì, praticamente la fonte del lupo, si scende e sulla piana a macchie, dove ci sono tutti i campi coltivati, è lì alla zona dei cervi. Da lì a salire verso i monti di Castelluccio. Se voi fate stazione a Castelluccio, partite da Castelluccio, il monte alla destra del pian grande lì è pieno di cervi. Fate... vi faccio un semplice conto. Nel Parco d'Abruzzo ci sono 600 cervi. Tutto il Parco d'Abruzzo. Nei Sipillini, che il Parco di Sipillini è un quarto di dimensione, ce ne stanno 500. E stanno tutti su quella zona. Tutti. E vi ripeto, in sette anni che ci vado non l'ho mai fotografati bene. Cioè, mai fotografati come può essere così. Impossibile. Quello che ho fatto io al massimo era a 200 metri, fuori fuoco, molto scuri. Quindi, diciamo che fotografare dalle nostre parti è difficile se vuoi spostarti dal camoscio. Ci ho fotografato l'Aquila, eh. L'Aquila Reale l'ho fotografato, le stesse zone. Allora, non so se riesco a trovarla. Per dire, Pogliana, vai alle valli di Argenta, ci sono i capanni a pagamento e fai le foto alla Pogliana a 10 metri. Se vuoi da noi, se si paga, se va dappertutto, se si fa benissimo. In Slovenia, come dicevo, vai a fare l'orso, 180 euro il capanno e fai l'orso a... Fra un pochino lo trovo perché sta qui. Ecco, il primo lupo della mia vita. Monte Catria stavo fotografando i Daini. Eccoli qui, questo è l'Albino. E mentre fotografavo questo c'era il lupo che mi guardava da, penso, mezz'ora sulla collina lì di fianco. Stavo lì e mi puntava. È un cane? Non è un cane? È uscito lui, poi ne è uscito un altro, ma questo è fotografato malissimo. Se vedete, eccolo qua. Era notte, nebbioso. Quindi ecco, la mia esperienza con i lupi non è il massimo. Con l'orso un pochino di più. Eccola, l'Aquila Reale fotografata lì. Questo è da cima dei Valli Infante verso la valle sotto, dove ci sta la frana praticamente del terremoto. La zona è quella, più o meno. Adesso vorrei farvi vedere... Bella questa. Eccola, questa è fatta da casa, dalla terrazza di casa, la Pogliana. Dalla terrazza di casa. È stata lì mezz'ora dal soggiorno, vado in camera, prendo l'obiettivo, lo monto. Tre piedi per far tutto preciso. Non ha fatto una piega. È stata lì, tranquillissima. Eccola qua. Pogliana. Cervo. Vogliamo fotografare i grifoni? Bellissimo. Venite con me. E lì è sicuro al 100%. È sicuro. Petrella Liri è un paesino subito fuori dal Parco Nazionale d'Abruzzo. Salita di 500 metri di dislivello. Parete rocciosa. Ci si appoggia. E abbiamo il nido sopra 3 metri. E questi veleggiano tranquillamente tra... È neanche complicato perché escono a mezzogiorno. Quando comincia a essere caldo, questi sono veleggiatori. Sfruttano esclusivamente le correnti ascensionali. Non li vedrete mai battere le ali se non in fase di partenza o atterraggio. Stanno così, tranquilli, enormi, 3 metri di apertura alare. Io la prima volta che li ho sentiti stavo salendo. Ho sentito ad un certo punto un... E arriva questa ombra enorme che si nasconde su una cavità di roccia. C'era il nido. Ho fotografato, non so se c'ero qui, il cucciolo. Il cucciolo, il pullo. Allora, dovrei invece adesso... Guardate qui l'arem. Questa è bellissima. Me la ricordo ancora. Era non quest'anno, l'anno scorso. Maschio. Ha fatto tutti i suoi doveri da maschio. E sta lì a riposarsi con tutte le femmine e il suo harem lì dietro. Considerate, lo stavo dicendo prima, che questa foto non vedete gli altri fotografi. Ma mediamente, in quel periodo, in quella zona, tra i 50 e i 70 fotografi ci stanno sempre ogni giorno. Ogni giorno. Troverete in Abruzzo, se volete vi dico anche la via dove stanno, perché io ce ne ho fotografate sei contemporaneamente. E le volpi qui a bordo strada stanno lì tranquilli, aspettano che gli dà da mangiare. Se gli si dà da mangiare spuntano come i funghi, le guardie forestali fanno 200 euro di multa. Quindi, non date mai da mangiare agli animali in Abruzzo. Mai! Questa, sembra che sta sognante, c'era una persona che gli stava dando da mangiare e io l'ho fotografata. Però qui non si vede, ma c'era la mano della persona. Questo sembrerebbe uno scogliatto, ma questo è un rampichino. Praticamente è un crocchietto così piccolo che lui non vola, parte da terra e si arrampica sugli alberi. E' anche complicato da vedere perché si mimetizza abbastanza. Ancora grifone. Ecco, questa è quella che dico le foto particolari. Simmetria centrale, il cervo che ti guarda nell'obiettivo, ti fissa. Questa è una foto semplicissima, ma non me la ricordo un'altra foto che ho fatto così diretta. Bramito, bramito. Bella questa pure. Eccoli qua, Mufloni sul Monte Catria. Io e lui ci siamo andati tre volte nell'ultimo mese, abbiamo visto uno a 200 metri di distanza. L'anno prima, rifugio Cotaline, dove si scia a Monte Catria, si parcheggia al rifugio, si scende 100 metri, ci si siede a 15 metri due mufloni che si divertono, ti guardano. Questo è l'orso, è già un pochino diverso. Allora, io sono andato in Abruzzo la prima volta in assoluto maggio 2017. E maggio 2017, ciao, il primo giorno che siamo saliti in quota, dopo mezz'ora di camminata, la prima animale che vedo è stato l'orso. Considerate che io ho iniziato a fare questo genere fotografico per fotografare l'orso. Fatto quello, posso anche fermarmi e vado a casa. In 10-15 volte, come vi dicevo, che ho fatto l'uscita e mirate per l'orso, l'ho sempre visto. L'ho visto da lontano, l'ho visto da vicino, l'ho visto con i cuccioli, tipo qui, senza cuccioli, qui all'occo degli Urali. Daini, Daini per dire, sono arrivato a Foreste Casentinesi, zona del Forlivese. I Daini stanno sul Monte Catria, i Daini stanno a Cingoli, sopra l'ago. Questa è fatta sul lago di Cingoli. Sul lago di Cingoli, se riesco a trovarla... eccola qui. Dietro quell'albero c'è il lago di Cingoli. Io non lo sapevo, me l'ha detto lui. Andiamo a fotografare i Daini, eccoli qui. Daino melanico, nero. C'è anche quello albino, bianco, non sta lì, l'ho fotografato sul Catria. Questi sono due maschi, quello di sinistra è giovane, quello di destra perché? Perché più si invecchiano, più diventano scuri. Quindi è questo. Voglio farvi vedere se riesco a trovare la foto con Amarena e i quattro cuccioli, fotografata nel 2020. Allora, per dire, andiamo a Senigallia, a spiaggia di Senigallia, di fronte all'hotel Diana. Voi dite, come fai a saperlo? Perché ci ho fatto la spola tra Ancona e Fano di tutte le spiagge in tutti i periodi dell'anno per cercare questo accrocchietto, che è un pulcino colorato. Questo è il fratino. Soggetto, non dico raro, perché lì ce ne stanno veramente tanti, ma è minacciato dal fatto che lui depone le uova sulla spiaggia. Sulla spiaggia. Io l'ho fotografato in mezzo alle persone che prendevano il sole a luglio. Ripeto, è un pulcino. Se riesco a trovarla ho la foto del pullo, che è praticamente una cosa di questo tipo. È praticamente invisibile. La devo trovare per forza. Ci siamo quasi. Cavalieri d'Italia. Se vedete i Cavalieri d'Italia, sappiate che su quel lago non c'è nient'altro che i Cavalieri d'Italia. Perché i Cavalieri d'Italia sono molto territoriali, molto prepotenti, diciamo. E quindi troverete tutto quello che c'è, che siano spatole, che sono quattro volte più grandi. Aironi, garzette, mestoloni, tutto quello che volete. Come arriva il Cavalieri d'Italia? Scompare tutto perché loro vanno a beccare le uova del, diciamo, degli altri frequentatori del lago. E quindi troverete solo il Cavalieri d'Italia. Che tra prensi è anche carino, eh, come soggetto. Dove sta? Questa è la rondine. Avete vista mai la rondine? La rondine non è bianca e nera, come sembra. È rossa, blu, ha sfumature blu sulle ali. Quella dietro si vedono ancora meglio le sfumature. Questo è il gruccioni. Volete fotografare i gruccioni? Questo è un animale prettamente estivo da noi. Arriva a metà fine aprile e va via a fine agosto. Coloratissimo, africano. Lo trovate sotto il ponte di Villa Potenza, il ponte nuovo, quello bianco. Lì c'è il fiume Potenza con le pareti sabbiose. E loro vanno a creare il nido. Lì scavano, vedete, tutti i buchi. E ci trovate il gruccioni. Sono bellissimi. Capriolo fotografato sopra a Fiastra. Lupupa giù alla Sentina. Lupupa, altro soggetto che dalle nostre parti è molto comune. L'ho fotografato una volta sola. Se conoscete zone dove ci sono ulivi secchi o comunque zone di ulivi non sulle colline ma un pochino verso la pianura, lì è il posto loro. Lupupa sta fissa lì. Beccaccino. Questo dovrebbe essere il totano. Questo dovrebbe essere il piume. Voglio trovarvi il... Questo è il porciglione bellissimo. Lupupa di nuovo. Questo è fatto su qualcosa? Sui laghi di Bocca Fornace. Ci dovrebbe essere anche il cigno nero dovrebbe essere da qualche parte. Cosa? Cigno nero? Questa qui invece l'avete vista mai? Questa è... Si chiama allora... In inglese wood duck. Adesso anatralegno. Boh, la traduzione è anatralegno però non è anatralegno. Non so come si chiama noi. Sembra l'anatramandarina ma non è. È un anatide americano. Da noi non c'è. Sicuramente è scappato da qualche giardino, qualcuno che l'ha comprata per... E sta, questa qui ha i laghetti di Porto Potenza. Fenicot. Io devo trovare quel cavolo di... Allora, questo è sbasso maggiore, laghetti di Colfiorito. Ce ne stanno... Allora, il laghetto di Colfiorito il primo che arriva, prima di arrivare dove sta la cosa? La... La pompa lì che è che ci sta, la draga che ci sta. Ci stanno due tre laghetti prima dove è possibile arrivare vicino all'acqua diciamo. Ci stanno quando c'è l'acqua gli sbassi che sono bellissimi. Sono bellissimi in questo periodo perché fanno la danza e l'amore. È il periodo dell'amore. Praticamente, vedete, maschio e femmina che si alzano in piedi e nuotano solo con le zampe. Ma stanno tutti fuori e nuotano in parallelo. La danza è là qui, è rovinata la foto. Andiamo avanti, altri po' di... Volevo farvi vedere il cavolo. Allora, questa qui è fatta l'anno scorso, durante questo periodo che c'era la neve ancora. E i cuccioletti dell'anno precedente. Tranquillissimi. Questo è zigolo delle nevi. Praticamente l'ho fotografato due anni fa. È un soggetto che è prettamente nordico. Ma nordico significa Svezia, Finlandia, Norvegia. Non si sa per quale motivo stava alla spiaggia di Senigallia due anni fa. C'è stato per 15 giorni, subito dopo il Covid, sì, dopo il Covid. Sempre lui, Daino Monocorno. Allora, adesso volevo farvi vedere un attimino, come avevo anticipato, se riesco a trovare... Ecco, questo è un cucciolo. Io stavo seduto sul sentiero che va a Passo Cattivo e lui stava lì. Siamo stati insieme mezz'ora. Ho fatto il video, foto su foto. Tranquillissimo. E se guardate i video che dovrei averci da qualche parte, forse anche qui. C'era, eccolo qua, il cigno nero. D'ora invece qui il video con sti cosi che si muovono. Vediamo se li trovo. Eh, troveli un po'. Non c'è. Allora, questo l'ho fatto l'anno scorso a Gran Paradiso. Qui c'era meno venti. E è stata una bella passeggiata. Nel senso, se conoscete un pochino la zona di Cogne, qui stavo a mezzo chilometro a Rifucio Sella. Rifucio Sella sta a 2400 metri di quota. E Cogne sta a mille e quattro. Quindi era mille metri di dislivello con la neve al ginocchio. Non è tanto la neve al ginocchio. Si va con le ciaspole. È meno venti. Nevicava un pochino. Venti chili sullo zaino. E stai praticamente sul bordo, comunque, degli gruppi. Tanti mi dicono che andando in giro da solo non sono... Non dico normale, ma poco ci manca. Però questo è Slovenia fatto. Slovenia è facile. Ripeto, si paga 180 euro al giorno e ce l'hai a 15 metri. Questo è un cucciolo dell'anno precedente. Quest'anno, se riesco... Anzi, al 99% ritorno a giugno. Il periodo migliore è fine maggio, inizio giugno, perché ci sono i cuccioli dell'anno. Quindi cuccioli, cuccioli di due mesi piccolini. Cioè, come... Se riesco a trovare Amarena, sarebbe il caso. Perché se no, Amarena già stufata, la nomino sempre. Allora, vediamola Amarena. Tanto fatemi domande... Ah, ecco qua, qui ci sta... Eccolo qua. Questo intanto è il fratino cucciolo. Adesso vi faccio vedere anche in mezzo ai genitori. Eccola qua. Sarebbe questa pallina qui. Sarebbe questa pallina qui. Immaginatevi che lui è piccolo, ma quell'altro non è tanto. E sta foto è fuori fuoco, eh. È oggettivamente fuori fuoco, ma così non ero mai riuscito di vederli. E se ci fate caso, questo blu è un lettino con un coso sullo sfondo. Era inizi luglio, c'era la gente al mare. Allora, voglio trovarvi quelle foto perché sono anche carine da vedere. Questa è la prima foto in assoluto del camoscio. La mia prima foto in assoluto. E ce l'avevo veramente a cinque metri. Chiudiamo anche questa. Non è quella che voglio farvi vedere, ma qui stava tornando, erano le... L'ho vista per tre giorni di fila e arrivava, sembrava un orologio svizzero. Alle cinque di mattina arrivava, alle sette andava via. Per tre giorni di fila. Tre giorni, dicevo, tra le dieci e le quindicimila foto ho fatto. Per quanto possa essere, ce ne avrò qui salvate, non lo so quante. Adesso le troviamo perché le troviamo. Allora, adesso parliamo anche di post-produzione. Questa, secondo voi, quanti ISO è? La zoomo per farvi vedere meglio. Se io vi dico quanti, immaginatevi tanto. 32 mila. Questo è 32 mila ISO. Fatta alle cinque e mezza di mattina, per me... Io ho il 500 F4, quindi F4 stava fermo, ho rallentato, stavo a un quattrocentesimo. 32 mila ISO. Notte fonda, praticamente. Quando conosci un pochino uno schema di... Una sequenza di post-produzione, e c'hai il programma di post-produzione che ti dà la riduzione del rumore come Cristo comanda, perché ci vuole anche quello, è inutile girarci intorno, se riesci a recuperare qualsiasi cosa. Quindi quando sento la gente ti dice, non alziamo gli ISO, si può fare... Allora, certo, se fosse stata a 100 ISO sarebbe stata meglio, ma a 100 ISO non l'avrei potuta scattare. Questa, se mi ricordo bene, è 6400, ma ho una foto fatta a 5000 ISO che sembra 10.000 volte peggio di quell'altra. Perché, lo ripeterò all'infinito, l'ISO fa un macello quando c'è una cattiva luce. Ci può stare pochissima luce, ma se è buona, comunque la foto non viene con un ISO rovinato. Cioè, gli ISO in quel caso, anche se sono 32.000, non va a rovinare la foto. Se la luce, quella poca luce che va a colpire il soggetto o che illumina la zona è buona, voi che dite? Qual è una luce buona? Luce soffusa, non luce dura, luce che non colpisce direttamente il soggetto, luce possibilmente da dietro. Allora, fatemi pensare a un'altra foto. Questa è fatta a 6400 ISO. La luce era molto peggiore di quell'altra e si vede che comunque è un pochino più scura. Se io vado a zoomare, vedete anche il muso decisamente peggiore rispetto all'altro. Questa è 6400 ISO, quest'altra è 32.000. Considerate, questa è fatta, adesso me l'ho persa pure, è fatta con una 5D4, quest'altra era fatta con una 80D, quindi una PSC, fatta addirittura con il... No, sempre con il 500, anche quella. Se siete fortunati andate a fare un safari perché è un'esperienza che vi cambia la vita. Perché è una cosa che neanche vi immaginate, veramente è talmente facile fotografare gli animali in quella situazione. Quindi, a Marena con i cuccioli che giocavano, qui stiamo... Allora, a Marena stava su... Considerate questa stanza c'è marciapiede, strada a due corsie, quindi sei metri e mezzi, marciapiede, albero, orso. E io stavo qui col treppiede e l'orsa stava lì, dove state voi praticamente, per sei ore in tre giorni. Primo giorno eravamo in tre, quarto giorno eravamo 400 a fare le foto a quell'orsa che stava lì. E non faceva una piega, aveva quattro cuccioli di tre mesi l'intorno e non ha dato fastidio a nessuno. Allora, andiamo avanti, voglio ritrovare tutti e quattro... Questa è una delle mie preferite. Questa si vede che è fatta la mattina presto, vedete il volto del piccolino per cercare di recuperare un pochino gli iso assurdi. Qui è tutto spiattellato. Ma la foto è questa. Questa io ce l'ho stampata 90x60 dentro casa e... Fatta questa foto potevo anche fermarmi. Immaginatevi che veramente le stava lì, tranquilla, se guardate bene, sembra che sorride. È fatta male, ma... difficilmente nella vita riuscirò a fare un'altra foto del genere, quindi... me la tengo e me la godo. Questa foto, se andiamo a farla vedere ad un professionista o a un concorso fotografico, è una foto che viene scartata immediatamente. Di netto. Non vi focalizzate sulla perfezione, perlomeno quello che penso io. In questo ambito, focalizzarsi sulla perfezione tecnica, sulla perfezione immagine, non c'ha senso. Se avete una scena del genere, qualsiasi cosa va benissimo. Fosse stata completamente scura o leggermente fuori fuoco, comunque io mi ricordo quel momento ed è quello che mi rimane. Vi faccio vedere una delle primissime foto, che anche quella ce l'ho stampata a grandezza, non dico naturale perché è impossibile, però è... Fra Francesco la vista, perché ce l'ho stampata dentro lo studio, se riesco a trovare pure quella. Fenicotteri, se qualcuno ha visto, è andato dentro la pagina mia Instagram magari, la vedete perché è una delle foto più viste che ho sul canale, sulla pagina anzi. Sarebbe una sequenza di questa, questa è quella finale, ma ecco. Vabbè, vi faccio vedere questa. Praticamente questa sequenza, passano i tre fenicotteri di fronte al sole. Fatta, penso era un mese che fotografavo. Zoom 70-300 Tamron con una 80D. Quindi, se siete fortunati anche e siete riusciti a prendere una situazione di tempismo, riuscite a fare anche foto discrete con macchine fotografiche entry level. Vorrei trovare quell'altra, ma è veramente complicato. Allora, facciamo una cosa adesso. Ci divertiamo un attimino, vi faccio vedere una post-produzione velocissima di come io faccio la post-produzione. Perché, come dicevo, faccio post-produzione durata massima 5 minuti. Se è più di 5 minuti ho sbagliato la foto, quindi la cestino. Allora, prendo queste foto che ho fatto in Slovenia un paio d'anni fa, a caso. Ne prendiamo una a caso. Scusate, il computer ha la sua età, ma... Allora, via, partiamo da qui, vediamo quello che tiriamo fuori. Va bene. Sì, ciao. Allora, naturalmente questo è un RAW. Andiamo a vederlo. 5D Mark IV, ISO 250 F4. Vabbè, qui stava un cinquecentesimo. La luce era buona. Pochissimi ISO bassissimi, quindi ci siamo. Allora, naturalmente qui ci troviamo una situazione molto particolare. capanno, treppiede, situazione anche di tranquillità, perché l'orso è tranquillo, non si muove, sta lì, mangia. Quindi si può fare quasi una post-produzione, scusatemi, una composizione già precisa in camera. Cosa che naturalmente non ho fatto, perché non so così bravo. Allora, quando faccio la post-produzione, camera RAW, la prima cosa che vado a fare è semplicemente andare a rendere il più neutra possibile la foto. Quindi profilo neutro e vado ad abbassare i contrasti. Solitamente sono questi, come si chiama, i parametri che vado a toccare. Apro un pochino i neri e le ombre. Adesso io lo faccio velocemente, però immaginatevi i tempi. Allora, vi spiego pure leggermente. Quando, dal punto di vista della post-produzione fotografia naturalistica, faccio questo passaggio e vado a rendere il più possibile neutra l'immagine, quindi abbasso le luci e i contrasti, devo allargare il più possibile l'istogramma, per dargli la più ampia gamma tonale. Quindi vado a fare, se abbasso le luci, alzo le ombre, abbasso i bianchi e i alzi neri. Vanno sempre in accoppiata e possibilmente con lo stesso più o meno numero di slider, diciamo, di parametro che vado a spostare. Abbasso leggermente la texture, che significa che vado in maniera digitale ad ampliare leggerissimamente lo sfocato dello sfondo. Se lo vado ad esasperare, vedete come viene esasperato leggermente, soprattutto sull'albero, questo qui a sinistra si nota. Ma pochissimo, 10, 12 massimo e un colpo di chiarezza per andare a dare un piccolo microcontrasto. Gioco, vado a sistemare l'ottica, rimuovo l'operazione cromatica, l'ottica, il mio è vecchio ma è il Canon e lo trova. Ora, va a togliere un pochino di vignettatura, mi sposto su dettagli dove non tocco niente dal punto di vista della riduzione del rumore, anzi vado ad azzerare, in questo caso, il rumore cromatico. E qui, su quello che è raggio e dettagli, vado ad abbassare il raggio, alzo al massimo i dettagli, che non va ad incidere su niente, perché io vado poi a mascherare il soggetto. Come si maschera il soggetto? Penso che lo sapete, se non lo sapete, si tiene premuto Alt e si scorre. Dove è bianco viene applicato, chiamiamolo il filtro, dove è nero non viene applicato. Quindi io vado a rendere più nitido il soggetto e non lo sfondo. Finito. Vado dentro, fra un pochino lo dico, Photoshop. E vado a fare una ricomposizione. Come ricompongo? Faccio una porcata. Io solitamente faccio così, nel senso, lui guarda verso destra, mi sposto verso sinistra, non l'ho potuto fare prima. Cerco di ridare una sistemazione per quanto possibile e Photoshop mi aiuta, riempi. Questo naturalmente è quando l'immagine lo permette. Questa non è un'immagine che avrei post-prodotto, perché era troppo spostata sul centro che non mi permetteva di fare una post-produzione mirata. Qui ha fatto un po' di porcate e vado con un po' di timbro clone a dargli un'aggiustata. Quindi, così. Impossibile, sì, ok. Scusami, c'hai ragione. Ti odio, ho sbagliato. Devo premere alto, ecco perché. Tac, e siamo andati a togliere quel piccolo problema. Notate quanti minuti è passati? Sono andato anche lento, eh. Ricopio. Metodo di fusione. Luminosità. Regolazioni. Vado ad aggiustare ancora i valori tonali. Cerco di ampliare ulteriormente la gamma tonale dell'immagine. Quindi, sempre premuto alt, come diventa nero, sto bruciando o rendendo, cioè, perdendo i neri. Idem per le luci. Come vedo le luci, mi fermo. E riunisco il livello. Metodo di fusione. Colore. Regolazioni. Un po' di contrasto con le curve, posso farlo a mano, io solitamente per velocizzare faccio contrasto lineare, unisco, e la foto è finita. La foto realmente è finita. Noi passiamo da questa, che era l'immagine neutra, a questa. Manca qualcosa? Io da qui vado avanti. Nel 99% dei casi, nel 99% delle persone, è sufficiente questo. Ci abbiamo messo tre minuti e mezzi. Io poi vado a fare altre regolazioni che, diciamo, vanno a dare un pochino quello che è il mio stile. Vado a fare una regolazione delle ombre e delle luci. Questi parametri sono quelli più o meno standard, da cui poi io vado a regolare. Parto sempre, 2, 50, 30, 10, 50, 30, e decido se alzare o chiudere. In questo caso già con 2, barra 3, 5, ci siamo. Copio sempre, perché almeno riesco ad eventualmente ritornare indietro. Filtro. Allora, se ci fossero delle dominanti di colore, in questo caso non ci sono, due metodi per toglierle. Uno è fare con curve, premere il tasto Alt e il tasto Auto con il mouse. Automaticamente lui va, premendo trova colori chiari e scuri, cioè lui va a prendere all'interno dell'immagine, Photoshop va a cercare i colori più scuri, i colori più chiari e cerca di renderli il più uniformi possibile. Trova colori scuri e chiari, uniforma con i mezzi toni e qui non ho nessun tipo di dominante. Lui l'ha tolta in maniera automatica. Qui vedete, è andato a fare in maniera automatica la sistemazione dei tre livelli, red, green e blu. Ok, non mi viene in mente giallo, verde e blu. Se vedete la differenza è questa, sembra poco ma non è poco. Avete una dominante qua dietro secondo voi? Perfetto. Altro metodo. Immagine. Regolazioni. No, scusatemi. Bisogna unire questi due. Anzi. Control, Shift, Alt, E. Control, Shift, Alt, E. Si riunisce in un unico livello tutti i livelli sotto. Completamente. Questo è il livello definitivo. Lo copiamo perché rimane il nostro livello di base. A questo punto, immagine, regolazioni, correzione colore selettiva. E io all'interno di questo filtro, chiamiamolo, posso andare a togliere tutte le dominanti che eventualmente vedo. Ci sono dominanti di rosso? No. Ci sono eventualmente in questo caso di giallo e di blu. E vado a giocare su questi parametri. Naturalmente io adesso esagero per vedere quello che cambia effettivamente. Vedendo, adesso, come al solito. Adesso già così, la dominante blu sullo sfondo l'ho tolta. Ok. Di nuovo, io so abbastanza, lo ripeto all'infinito, Control, Shift, Alt, E per averci la sicurezza di un livello sempre di sicurezza. Filtro. Camera Raw. Se voglio dare un tocco finale alla mia immagine. Che può essere anche, facciamo la parte un pochino che la gente odia, che faccio. Voglio scurire un pochino questa zona perché non mi piace e mi fa perdere un pochino dell'attenzione al soggetto. Ci faccio un filtro radiale, abbasso un pochino qui. Poi ci metto un nuovo filtro radiale per dare l'effetto di un presenza di sole. Non esagerare, cioè non facciamo una cosa del genere. Diamo proprio un accenno. Ok. Sono andato oltre, molto oltre. Ho già dato una impostazione, chiamiamola artistica, che è sulla fotografia naturalistica. La fotografia naturalistica, come dicevo, si ferma a questo livello qui. Noi siamo otto livelli superiori. A questo punto do il mio tocco finale, che è uno pseudo filtro Horton, che tutti conoscete se fate i paesaggi, e lo faccio in automatico con filtro Color FX Pro della Nik Collection. Ci avrà i suoi tempi. E qui vado a creare un filtro che si chiama Glamour Glow, che gli dà questo tocco un pochino poetico, diciamo. Sembra leggerissimo. Io posso... Questa sarebbe la foto senza filtro. Lo andiamo a mettere... Poi posso scegliere tra colori freddi e colori caldi. In questo caso mi tengo neutro perché mi va bene così. Elabora. E questo è la mia post-produzione con il mio accenno di, chiamiamolo, stile fotografico, che può essere... che vi può piacere o meno. Ripeto all'infinito. I due passaggi dentro Photoshop di gamma tonale e di contrasto con le curve sono sufficienti per finire la nostra fotografia naturalistica. Ed è il 99% di quello che fanno le persone. Poi, volete fare la foto figa per Instagram? Fate anche questi passaggi perché gli dà quell'accenno di nitidezza, quell'accenno di... chiamiamola anche parte un po' poetica, un po' così dream, che piace tanto sui social. Questa è una foto che postata su un social viene riconvertita a 1350, viene compressa, farà schifo perché se voi andate a zoomare si vedrà i quadretti grossi così, i pixel, ma per il social, che noi guardiamo dal cellulare, è più che sufficiente. Foto post-prodotta in 4 minuti e mezzi. La foto non era niente di che, il passaggio laterale del riempimento si poteva tranquillamente evitare perché, come ho detto all'inizio, non era questa la foto che si andava a post-produrre. Se ne andiamo a vedere velocissimamente senza fare la post-produzione, non era questa, non era questa, non era questa, forse cominciava a essere questa, perché vedete che si sposta e avrei potuto fare una composizione leggermente più mirata al volto. Avrei potuto fare anche una post-prodotta in una composizione così, in orizzontale, mettendo con la regola dei terzi l'occhio puntato sulla classica incrocio delle linee. cosa che non ho detto, la composizione, sì, va bene nella fotografia naturalistica, ma regola dei terzi, simmetria centrale, linee che si intersecano verso il soggetto, fate una foto bella, fate un soggetto particolare, fate un momento particolare e per quanto mi riguarda e per quanto vedo in giro sulla fotografia naturalistica la composizione in determinate situazioni passa un pochino in secondo piano, quando è il momento che sono andato, sono riuscito a scattare, è quello che va a dare una unicità all'immagine. Qui vedete un orso da solo, quindi c'è poco da essere unici. Magari già questo che si tira su potrebbe essere particolare. Stiamo in Slovenia, sono tutte cose, se voi vedete non c'è una foto fuori fuoco, sono tutte foto iper nitide, perché abbiamo tempo, molto tranquillo, la luce non dico che è precisa, ma abbastanza. Situazioni in cui il soggetto non sai se ti esce, quello che viene, viene. Facciamo la foto. Meglio una foto fatta male piuttosto che niente. Quindi per questo, ISO automatici, evitiamo di perdere tempo a regolare l'ISO. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Fidatevi, non c'è tempo. La velocità dell'otturatore è l'unica cosa che dovrete oggettivamente andare a controllare per avere quel minimo di nitidezza che vi permetterà di avere una foto più o meno salvabile. Facciamola e poi cerchiamo, se possibile, in fase di post-produzione, di recuperarla. La post-produzione non salva niente, ma una foto di una situazione particolare, in quel modo la salviamo. Penso di aver finito. Abbiamo un discorso, madonna, un'ora e mezza. No, un'ora e dieci. Se volete potete farmi domande su tutto quello che volete. Sto qui. Silenzio di tomba. Non vi vergognate. Come dicevo, io non insegno niente a nessuno. Sicuramente avrete fatto foto agli animali, anche foto ai cani, ai gatti. Va benissimo così. Certo, fotografa un orso, fotografa un leone è un'altra cosa. Adesso la cerco. Mentre voi volete, se volete fare, vi faccio vedere una foto. L'avevamo trovata con Francesco ieri. Quella del leopardo. Sono situazioni in cui, ripeto, vado in Sudafrica, la prima foto in assoluto che scatto è un leopardo. In sei giorni l'ho visto quella volta. Quattro foto in quel momento. E basta. Mi hanno detto, sei stato fortunato a fotografare il leopardo. Non c'è stato mai un momento in cui, girando a 360 gradi, non c'era un animale da fotografare durante il safari. Se iniziate a fare fotografia naturalistica con un safari, rimarrete delusi. Perché quando tornate qui non ci saranno mai quelle situazioni, neanche allo zoo. È impossibile. Neanche allo zoo. Guarda, fidatevi. Il parco del Circeo, sì, ci ho fatto. Daini e fenicotteri. Situazione particolare, perché, se è quello che intendi, ci sono... Tanti fenicotteri, no? Tanti fenicotteri. Ieri mi ha chiamato un amico mio, lui è di Latina. Sono cominciati a scendere i fenicotteri come numero. D'inverno ci sono tantissimi perché svernano lì. Non sono nidificanti come a Orbetello. Lì ce ne sono... Questa per dire è una situazione di... Non mi ricordo come si chiama. Questa pavoncella. Un gruppo di... Sarà state 150 pavoncelle. Vengono spaventate da un falco pescatore che stava lì in caccia. Adesso ve lo cerco pure. Il falco pescatore stava da ste parti. Forse subito dopo. Eccolo qua. Il falco pescatore... Coppia di falchi pescatori. Non dico quasi impossibile da vederla. Qui stavo all'oasi di Orbetello. Femmina e maschio. Che stavano a caccia. Hanno girato per 20 minuti. L'unica foto fattibile e oggettivamente editabile che ho fatto. L'avrò fatta 500 perché falco pescatore è la prima volta in assoluto che lo vedevo. Finicotteri per dire lì si vedono facilmente. Eccoli qua. Questa è fatta al cerceo. Questa invece per dire è una foto che ho cercato per tre anni. Gru cenerine in Toscana. Sono arrivato e questo è l'ultimo gruppo di gru che volavano verso l'Africa l'inverno scorso. Orso, 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 orso. Voglio trovarvi. Petta azzurro alla Sentina. Soggetto che ci sta giù dieci giorni. Se non si sa, se non si conosce il periodo e la zona, soggetti che questo periodo era la prima volta in assoluto che lo vedevo e ho avuto la fortuna di fotografarlo. Fuori fuoco, perché è fuori fuoco. Però era la prima volta, me lo tengo, me lo godo pure, anche questo. Altri, questa fatta ai fenicotteri che sono tranquillissimi dal finestrino della macchina. Bordo strada, senza problemi, stavano lì. Questa addirittura, questa è vecchia, con l'80D, questa ha 6 o 7 anni, c'è sta foto. Fenicotteri vicino a noi stanno. Saline di Cervia, si fotografano la strada, andate sulla stradale, parcheggiate, attraversate la strada, andando verso nord, parcheggiate a destra, attraversate la strada, c'è le saline lì a sinistra. I fenicotteri ce li avete, se siete fortunati, anche a 20-30 metri e fate foto del, se riesco a trovarle, naturalmente, quella che sto cercando in maniera urgente da prima. Volpi in Abruzzo, Pescasseroli, andate verso Bisegna, c'è un incrocio con una casa cantoniera, lì c'è un nido, Tane, due anni fa c'erano 6 volpi contemporaneamente. Contemporaneamente, ci stanno sempre. È una zona dove lì c'è un raggio di un chilometro, c'è 6 o 7 volpi. Adesso cerco, beh, questo è all'occo degli Urali, questo è Slovenia. Tutto l'arco alpino, dalla Val d'Aosta al Friuli Venezia Giulia, la marmotta, da metà maggio a fine settembre, marmotta in tutte le salse, in tutti i posti del mondo, in tutti i posti, dappertutto. Andate sui piani del Nibolet, la trovate come fosse un gatto randagio. Sta dappertutto, sentite urlare perché fischiano per aver, per, fischiano proprio. Un urlo che non saprei neanche dire, praticamente avvertono della presenza dell'umano per nascondersi. Ma, allora, altra Pogliana dalla finestra di casa. Pogliana, io sono in Bacerata, lavoro a Caldarola, passo per Pollenza, tutti i giorni che ha dato il signore sta una pollaiata sopra un paro della luce, vicino all'incrocio, se conoscete, la scuola vecchia di Pollenza, questa zona Rotelli, non so se conoscete, sta lì, c'ha un paro della luce, lei sta lì sopra. Passi, sta lì, ti guarda tranquilla, come rallenti, vola via, mai riuscito a fotografarla, sta fissa lì, tutti i giorni. Questo è, vabbè, il cigno del Bocca Fornace. È un cigno, è un soggetto semplice, visto e rivisto, una composizione particolare. Poi andiamo, questa l'abbiamo vista prima, questa fatta con il 70-300 e l'80D, se io lo vado a zoomare. Era vicino, per carità di Dio, più la minimale è vicino e più è facile avere soggetti nitidi e anche con questo zoom. Come ti avvicini? Devi conoscerlo, devi camminare piano, devi essere silenzioso. Io so più di 1,90, devi stare basso, spesso e volentieri, ti devi accovacciare in determinate situazioni. Quando sai di essere vicino al posto dove solitamente stanno, vai piano, aspetti, aspetti, cerchi di ascoltare se si sente qualche cosa. Il camoscio si dice che, il camoscio bella, è una pecora, fondamentalmente una capra. Il cervo bramisce, ma soprattutto soffia, i maschi, soprattutto le femmine. Io non ho mai sentito nessun tipo diverso, lo stambecco, pure lui soffia. Se parliamo poi del capriolo abbaia, sembra un cane, è preciso, sembra proprio un cane. Ma perché ci sono più vini, così, una curiosità, stambecco, cervi? No, cervi lì. Cervi lì? Sì. E forse metti i cervi un bocchino, non puoi rimanere. Sì, allora, no, è più tipo un cavallo, più tipo un cavallo. Non è un cavallo, è proprio una razza, però diciamo è più assimilabile a un cavallo. Non l'ho vista mai dal vivo. Un mio carissimo amico è tornato poco tempo fa dalla Finlandia e ha detto sì, il cervo è grosso, l'hai vista mai l'alce? L'alce è algarrese, cioè sulla spalla, è alta due metri e mezzi. Eccoci qua, così. Cioè il cervo è così. Cioè due metri e mezzi è una cosa indescrivibile. Fotografare l'orso in Apruzzo è bellissimo, la Slovenia è bellissima. Finlandia sono gli orsi bruni ancora più grandi. Io sto organizzando il mio viaggio, il mio viaggio della vita l'anno prossimo. Vado in Alaska dove ci stanno i grizzly, 700 chili di orso. Se si alza in piedi sono 3 metri e 20 di orso. Quello non è come il marsicano che scappa via. Lo sto organizzando oramai da 6 mesi, però il costo è quello, andiamo dai 5.000 in su. Però sarà due settimane di Alaska e se riesco a far combaciare sia lavoro che tempo che soprattutto soldi, una settimana a Churchill per l'orso polare. Se riesco, però due settimane in Alaska sarebbero seconda e terza di settembre e l'ultima di settembre che in Canada, quindi a Churchill, si comincia a gelare il mare e arrivano gli orsi polari. Il problema della fotografia naturalistica è anche questo. Qui da noi, in Italia, ci sta quei quattro esemplari, cinque. Poi o si viaggia o c'è poco da fare. Un altro viaggio bellissimo è, per chi è amante della vifauna, andare al delta del Danubio. Si chiama Ultima Frontiera, è una zona specifica con tantissimi capanni, ci saranno una cinquantina, dove c'è tutte le tipologie possibili e immaginabili di avifauna, di uccelli. E in più c'è lo sciacallo dorato, che adesso è arrivato pure in Italia, sta in Friuli, alcuni propaggini dei Carpazzi. Come in Friuli c'è arrivato anche l'orso dalla Slovenia. Scusa? Bulgaria, sì, è un viaggio relativamente anche poco costoso, sta sul 1700 euro. Una settimana tutta vi fa una capanna, praticamente ti danno una macchinina elettrica e ti sposti con la macchinina elettrica sui capanni e tu il giorno prima dici voglio stare al capanno 7, 15 e 32 e ci stai solo tu su quel capanno. In base a quel... ogni capanno ha il suo soggetto preferito, diciamo, ma ce ne stanno di tutti i tipi. Polonia, altro sogno, fare il... il... il bufalo. Bufalo? Bisonde, scusate, bisonde europeo, bisonde europeo in Polonia. Idem l'aquila di Streller sempre in Polonia. Pulcinella di mare, cavolata, andare sulle isole Shetland oppure andare in Islanda a fare il pulcinella di mare. I Puffin, uno dei soggetti più belli che ci possano essere dal punto di vista dei colori. Bellissimi. Altra cosa semplicissima da fare. Gole del Verdone in Francia. Grifoni. Tantissimi. Da noi ce ne stanno 20 coppie. Lì ce ne stanno 200, le coppie. Vi piacciono soggetti particolari? Andiamo a Matera. Falco Grillaio. Andiamo a girare per i sassi di Matera. Invece di fotografare il paesaggio. Fotografiamo i falco grillaio che stanno sui cornicioni delle case. Ce ne stanno tantissimi. È proprio tipico di Matera il falco grillaio. Siamo falco grillaio. Altro soggetto particolare. Capovaccaio. Un altro avvoltoio. Con la parte anteriore bianca e sembra barbuto. Ce ne stanno in tutta Italia quattro coppie. Gipeto. Vado 12, 13 e 14 di aprile. Vado in Gran Paradiso. Gipeto. Altro avvoltoio. Volpe. Se siamo fortunati sulla neve. E stambecco. Bisogna girare. Cioè qui da noi c'è poca roba. È brutto da dire. Ma ecco. Se siete appassionati di fauna. Più o meno ci si accontenta anche di questo. Se volete come me fare soprattutto mammiferi. Bisogna andare fuori. Bisogna andare su posti specifici. Il Daino. Sì. Sta a. Al lago di Castriccioni. Ma al lago di Castriccioni lo fotografi a 100 metri di distanza. Non va bene. Per me. Vado alle foreste casentinesi dove mi siedo. Nascosto naturalmente. Ma mi arriva a 10 metri. 5 metri può essere. Se riesco a trovarla. Quella foto che tra le pareti mi piace particolarmente. Ma penso che l'avete già vista. Forse scorrendo. Anche due. Assolutamente no. Io faccio lavoro al Comune di Caldarola. Faccio l'architetto sul cuore. L'ufficio tecnico del Comune di Caldarola. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora. Riviste oramai dal punto di vista della fotografia naturalistica. A meno che non è National Geographic. Non c'è più niente. Airone. Quello che era un tempo Airone. O quello che è. Come si chiama? Quella rivista L'Afni. Che adesso non mi viene neanche in mente. Asferico. Esatto. L'Afni. Io ho fatto parte dell'Afni per 5 anni. L'Afni è bravissimi ma è una setta. Per entrare lì dentro. Nel senso. Vuoi fare. Vuoi pubblicare una foto su Asferico? Ci sono i loro. Sì. Sì. Allora. Io. Grazie a Instagram. Diciamo. Non dico. Mi sono fatto conoscere. Ma ho avuto la possibilità di collaborare. Mecanon mi ha mandato diverse volte macchine fotografiche e obiettivi da provare. Certo. Mi fanno firmare che se li rompo devo dare un rene e forse anche un pezzo di mamma. Però è così. Cioè. Io mi ricordo. Quando uscì la R6. Mi mandarono la R6 in anteprima. Canon R6 in anteprima. Con il 100. 500. E ho firmato che se dovevano esserci problemi c'era da saldare 12.000 euro. lo fai perché ti piace. Perlomeno è una soddisfazione. Ancora mi ricordo il giorno in cui mi chiamo Canon. Mi dice. Sono Canon. Sei Alessandro Picchio. Della pagina Instagram Alessandro Picchio. Sì. Bene. Siamo Canon. Vorremmo collaborare. Qualche ditta mi manda lo zaino. Mi manda il treppiede. Sì. Ma non faccio. Non vendo. Cioè la foto se me la chiede. Ho venduto forse tre foto. Me la chiesta. Due tedeschi. E un ragazzo. E una ragazza di Venezia. Ma con 20 euro a foto. Non ci fai niente. Capito. Non è quello. Non è quello. Ho fatto anche il canale YouTube. Ma perché mi piace parlare di questa cosa. Cioè sul canale YouTube mio. Come si fotografa con Altiso. Qual è il workflow da utilizzare per togliere gli ISO alti. Post produzione. Come vestirsi di inverno. Tutte cavolate del genere. Ma perché mi diverto a farlo. Nessun tipo di ritorno economico. Però. E lui è testimone. Andiamo giù in Abruzzo. Passeggio. Oh. Ma che sei Alessandro. Fa piacere. Ti diverti. Ti dà la possibilità anche di conoscere altre persone. Io fino a. Fino a che. Anzi. Non fino a che. Mi piacerebbe tuttora. Non essere quello bravo. Essere il più somaro tra i bravi. Perché imparo. Perché se io vado fuori con. Dieci persone. Quante persone mi chiedono. Perché non fai workshop. No. Perché non ho niente da imparare. Piuttosto il contrario. Non ho niente da insegnare. Scusa. Piuttosto il contrario. Vogliamo andare a fare le foto? Venite. Vi dico tutti i posti. E vi porto insieme. Lui ha cominciato a venire a fare le foto insieme a me. E ci viene sempre. Perché mi diverto. Mi piace fargli conoscere. Mi piace fargli fotografare. Quando ha visto l'orso così è rimasto. Ancora me la ricordo quel giorno. E per me è molto più divertente questo. Piuttosto. Ripeto. Io ho il mio lavoro. Non me ne frega niente. Deve guadagnarci. Guadagnarci. L'unica cosa che mi piacerebbe. È averci la possibilità di viaggiarci. Ho iniziato con una ragazza. Lei fotografa naturalista proprio di lavoro. E mi ha chiesto di accompagnarla a fare dei viaggi fotografici. Mi ha detto ok. Ci vengo. Ma io vengo a fare le foto. Non vengo a insegnare agli altri. Posso provare a portarti delle persone. Ma non è che mi metto lì. Voglio essere pagato per fare. Se riesco ad evitare di pagare il viaggio sono tutto contento. Ma non è che ce devo tirare fuori i soldi. Non me ne frega niente. Ma neanche. Non immaginate. Stavo dicendo anche prima. Mi è capitato. Anni fa. C'è stato un periodo in cui avrò fatto uscite, non dico giornaliere, ma poco ci manca. Tutti i sabati e le domeniche uscivo. Andavo fuori. C'è stato un giorno. Sono andato al parco della Piana Sesto Fiorentino. Avi Fauna come se piovesse. Sono partito alle 3 da Macerata. Arrivato alle 6 a Firenze. Alle 9 ho finito di fotografare. Sono ritornato a casa. A mezzogiorno stavo a casa. Ho fatto 6 ore di macchina per 2 ore e mezza di foto. Perché dentro la mia testa, uno, non ci devo guadagnare niente. Fatte quelle foto che dentro la mia testa volevo fare, quei soggetti, che senso già sta lì fino alle 6 ore alle 9? Dal mio punto di vista. Poi certo, non nego che, lavorando fino alle 2, ho tanto tempo libero, la possibilità di domani pomeriggio prendo e parto e vado su Albove. È brutto tempo? Magari. Magari mi nevicasse pure. Non tutti se lo possono permettere. C'è poco da fare. Secondo qui, chi è che lavora domani pomeriggio? Il 95% delle persone. E sarà estremamente supportato da casa. Non sono sposato, quindi la mia compagna lavora fino alle 9 di sera. Non sono sposato, la mia compagna ha un negozio, lavora fino alle 9 di sera, quindi diciamo che il problema è che lei fa la parrucchiera, quindi il lunedì è libera. Io lavoro anche il sabato mattina, quindi ho il problema della domenica. Perché alla domenica lei mi pressa, dobbiamo fare questo, questo e quest'altro. Una domenica Ikea, una domenica Viale, una domenica Foto, perché se no io vado via la testa. Però c'è il pro che anche lei è amante della natura, tutte le vacanze, comunque che sia il fratino a Senigallia oppure il gruccione alla Sentina, andiamo al mare? Va bene, tu abbronzati, io vado a fare le foto dalle 6 alle 9 e poi vengo. Non è un problema? Finché dura va bene. Allora, finché dura, il discorso del dura è finché c'ho la forza di svegliare alle 3 di mattina, quando la sera comunque prima di mezzanotte non vado mai a casa a letto. Sì, da parte su, ah guarda, io lì so, allora mi pare che è stato 40 anni nell'esercito, è così, io sono andato leggermente così. Ti sta bene? Bene, non ti sta bene? Bravo! Ma non perché, sono arrivato a 50 anni, non è quello, è che, cioè. C'è una cosa che ti dò? Assolutamente. Cioè, se no, se no. Allora, aspetta, 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 blocco subito, blocco subito. Allora, mi ricordo come fosse ieri, mi ricordo come fosse ieri, il giorno in cui mi dice, tu vai a fare le foto? Dammi la possibilità di fare le foto insieme a te. Macchina fotografica comprata, obiettivo comprato, esagero, 2000 foto in 3 anni. Io, ripeto, 2000 foto le faccio in un pomeriggio, quando c'è qualche cosa da fotografare. Allora, io qui dentro ci sono 170.000 foto fatte e 170.000 sono quelle effettivamente editabili, non quelle fuori fuoco che io me le guardo e me le cancello. Ho fatto secche, una, due, tre, quattro fotocamere, ma non perché erano da cambiare, perché aveva fatto una 200.000, io c'ho una 1D4 e c'ha 700.000 scatti. L'ho comprata e usata e ce ne aveva 150.000, ma io l'ho fatti quell'altri. Quell'altri l'ho fatti. Adesso scatto con la 5D4 e, ripeto, sono passato da fare tantissime foto a 30, 40 foto. Che per una situazione in cui comunque fai una raffica da 3 secondi e fai 25 foto, è tante. E poi, cioè, scusa, è poche 50 foto in un'uscita, in un pomeriggio. Ripeto, oramai, diciamo, mi sono focalizzato ad una situazione fotografica un pochino particolare. Allora, questo camoscio lo fotografi, perfetto, è bello, in mezzo alla neve è così. Di questo lo fotografi, in primis perché questo non è il camoscio appenninico, ma è quello delle Alpi, è diverso. Ma di queste foto, identica, ce ne avrò 2.000, più o meno belle. Quindi, non dico di non fotografare, piuttosto di limitarsi a fare foto che effettivamente possano essere uniche. Non uniche, l'unicorno rosa che vola sopra l'elefante alato, no, ma particolari, ecco, più che uniche, particolari. E' inutile sta fotografare sempre, ecco, questo, bellissimo. Qui è particolare il riflesso, che se magari fosse stata ferma l'acqua era ancora meglio. Però una foto come un'altra, dal punto di vista di questo, è questo, fondamentalmente. Sono due foto sprecate, dal mio punto di vista... Sì, sì, assolutamente sì. Adesso, ripeto, volete venire a fare un'uscita fotografica? Domenica no perché è Pasqua, domenica dopo? Andiamo, tranquillamente. Vedrete che voi, appena vedrete il camoscio, scatterete a raffica, 20 secondi, ma non è, ne salvi uno, ne puoi salvarle anche tutti. Chi c'ha mirrorless ne salva il 99.9%, perché la foto è a fuoco e perfetta. Io su 100 foto, per quanto pare che ho il Parkinson, comunque, con 7 kg di attrezzatura sulle mani, dopo un pochino, tremi, non ce l'ho tutte le foto a fuoco, è inutile, non mi vergogno a dirlo. E comunque scatto poco, scatto pochissimo. Io sono uscito un paio di volte con un ragazzo di Iesi, lui ha la A9, la A2, e fa 20 scatti al secondo, due raffiche da tre secondi, ha fatto 120 foto. Tutte uguali a farne una, due, cinque, ma falle bene e particolari. Cioè, che senso c'ha? Torno a far vedere i RAW di qua, che è emblematico. L'orso lo vedi? Che senso c'ha, ste foto? Tutte uguali. E te lo dico io, l'ho fatta io. Che senso c'ha? Tutte uguali. La foto, questa è carina, perché sta in una posa particolare, ma forse questa è ancora meglio. Se no, non so foto particolari, sono foto che se ne trovano centinaia intorno. Dopo, ecco, io sono riuscito a diventare abbastanza selettivo quando vado a fare foto, questo sì. Non so fare foto di paesaggio, perché lo ammetto, non riesco a vederci la composizione, a vedere, però ci perdo tempo e non dico che vengano bene, però magari in una situazione meteo particolare con un po' di nuvole. Però per fare questa foto, se io fossi stato avanti a un orso, avrei fatto due foto e le avrei fatte particolari. Per fare questa avrò fatto 50 foto e mi è venuta una merda, detto delicatamente proprio, perché non è niente di che. Non è niente di che. E chi fa foto di paesaggio lo dice tranquillamente, ma io sono il primo che dice non sono in grado di fare foto di paesaggio. Non mi ci sono mai applicato, è una pecca, però per quello che è il mio approccio alla fotografia, per me è troppo statico, cioè sta lì, tac, no, devo aspettare un attimo che passa la nuvola lì particolare. Se non mi passa la nuvola è un problema per me, però se vado a pensare, cavolo, però se non mi passa l'orso è uguale che non ho fatto nessuna foto. Sarà l'eccitazione comunque che aspettasse che esce sto orso piuttosto che la montagna, peraltro bellissima, che sta lì, ferma e posso tornarci cento volte in dieci anni diversi e fare comunque foto sempre diverse. E io magari vado dieci volte di Slovenia, tre volte, totale praticamente sei ore di capanno al giorno, nonostante nove giorni, quindi sei per nove, cinquantaquattro ore di capanno, di cui cinquantatré, cinquantadue, così. E non c'era l'orso. Primo giorno l'orso è venuto sette minuti si è fatto vedere e ancora me lo ricordo in quei sette minuti ho fatto forse mille, mille e cinquecento foto. Il capanno con il cavaletto? Il capanno c'è l'attacco per la testa, il cavaletto no, c'è proprio la mensola, le viti, ognuno c'è il suo buco, massimo due buchi a persona. Se io vado con una macchina fotografica pago cento, pagavo, centottanta euro al giorno, se me ne porto due ancora centottanta, se ne porti tre sono due e quaranta. Io me ne porto sempre due, io sempre due me ne porto, una fissa per fare i video e una per fare le foto. Fissa. Non parla nessuno, permette? No, no, ci mancherebbe. Sì, sì, sì. Ritorno a dire, tecnicamente parlando, io sono veramente scarso, cioè se mi chiedete di fare una foto con un flash, non so neanche che significa prima e seconda tendina, non ho idea di che si parla, eh? No, ma in tutto, tu hai fatto quel gesto, no? Questo cannone che ti ha scritto la giornata in mezzo, ma cioè, veramente, in la fase è tutto fermo, a mano, riesci... ad esclusione dei video faccio tutto a mano libera, ad esclusione dei video, sì, i video, ultimamente, avendoci il canale YouTube, dove ci stanno tanti video anche di uscite fotografiche, eh, per fare qualche cosa un pochino più alto di qualità, che poi è anche complicato per chi non è abituato, se devi seguire eh, un soggetto che si muove e non c'hai la testa video, fai a scatti comunque anche con la testa per quanto possa essere fluida, tutto quello che ti pare, puoi scattare con la cimbal a un soggetto che sta in alto, la cimbal non si blocca, devi tenerla, è comunque eh, il... già solo il semplice respiro, se vedi, su un 500, magari moltiplicato, quando... infatti io solitamente consiglio di scattare almeno all'inverso della lunghezza focale, 500 almeno un cinquecentesimo, io scatto da un millesimo in su, ripeto, non mi interessa degli ISO, devo cercare la foto nitida, l'ISO più o meno lo recupero e non ho fatto vedere prima il passaggio di riduzione del rumore con Topaz che è ridicolo, entri dentro, fai invio e fa tutto da solo, con ISO 250 però con 10.000 ISO Topaz The Noise attuale, quello con l'intelligenza artificiale recupera qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, pesa, pesa, posso garantire che pesa, fare una raffica anche dei 3-4 secondi, io sono abbastanza allenato, faccio palestra, l'obiettivo pesa 6 kg, Giassoli semplicemente fa così, fai un po' dei pesi, però pesa, però pesa, no, no, è complicato anche perché si arriva al punto in cui veramente vuoi fare la composizione in camera, vuoi cercare di trovare quel momento, quindi magari stai lì 30 secondi e poi cominci a pesare, cominci a pesare e lo abbassi, perdi l'attimo, vestimi in austro-ungarico, stiri su, aspetti 30 secondi e quell'attimo non ti ricapita più, respirare fino a che un 500 liscio si è bozza, se ci si mette già su una APS-C che vai a 800 mm è complicato, ecco, è davvero complicato sta fermo, anche su un, io mi sono accorto tante volte, c'è un po' di vento, devo togliere il paraluce, perché già il paraluce prende un po' di vento e mi fa effetto vela e mi sposta tutto, più è lungo l'obiettivo, prima stavo a fare le prove con lui della ripresa e con 24 mm anche io che tremo non si vede niente, già con 70-200 a 200 mm è tutto amplificato col 500, moltiplicato già 2x1000 messo su una PSC diventa 1600 è tanto è tanto complicato sta fermi quindi se avete la possibilità e la pazienza che io non ho di portarvi dietro il treppiede io me lo porto sempre il treppiede ad uso esclusivo dei video se devo fare le foto sta lì è 3,5 kg sulle spalle e basta perché se faccio appostamento naturalmente lo uso però non è nel mio stile di fotografia io cammino e li cerco piuttosto che sto lì e li aspetto se li devo aspettare aspetto l'orso non vado a aspettare il camoscio il capriolo no il capriolo bisogna aspettarlo perché è impossibile fotografarlo stambecco camoscio cervo non mi metto in appostamento c'è la possibilità di farlo in maniera più o meno facile che per i puristi può essere anche una cosa brutta da dire però perché devo farmi 10 km a piedi con 20 kg sulle spalle e quando vado a Villetta Barrea al campeggio ce l'ho lì facendo una passeggiata dei 150 metri che senso c'ha tanto è sempre un cervo non c'hai la foto con lo sfondo X o la situazione del l'ho fatto l'ho fatto 1200 metri di dislivello in un'ora e un quarto perché lui mi stava un'ora e un quarto 3 km e mezzo 1500 metri di dislivello ho pure sbagliato strada perché non me la ricordavo quindi abbiamo camminato di più è stato lì il cervo un quarto d'ora foto queste dove sta eccola qua questa 4-5 di questa tipologia sulla pozza lui che si rotola due video di lui che si rotola fa un po' dei mangelli ma fine 10 minuti per 8 ore tra camminata andà aspettarlo e ridiscendere 8 ore per chi allora io lo faccio perché mi piace però ve ne vale fare 8 ore per fare 6 foto no perché lo capisco lo capisco perfettamente la domanda se tu lo fai perché chiaramente ti piace quello che piace lo apprezzo ma c'è qualcun altro che è disposto a fare quello che fai quanti allora io ho cominciato 7 anni fa e posso dire che da 7 anni ad oggi c'è stato un aumento di interesse verso la fotografia naturalistica esponenziale se si va in Abruzzo a settembre durante il Bramito non c'è giorno che non ci sia un workshop di un qualsiasi Bavassano per dire il più conosciuto io ci ho fatto 5 workshop con Bavassano per star lì al campeggio dove io te ci porto per dire guarda sta lì pace ti fa pagare 500 euro e ce l'ha sempre pieno perché c'ha 4 workshop in due settimane l'interesse c'è l'interesse c'è ce n'è tanto allora sì sono d'acco bella domanda questa è veramente bella perché io consiglio sempre a tutti di prendere un obiettivo da 150 euro che è il classico 70-300 della Tamron divertiti a fare le foto però fai le foto con me fannoci 20 km di strada andate in ritorno e svegliamoci alle 3 per 3 volte di fila andiamo in avruzzo 3 giorni dormi in totale forse 9 ore e ti fai 50-60 km e stai seduto sui sassi che te punta dappertutto per 5-6 ore se finito se è finito ti piace ok facciamo il passo successivo però è oggettivamente ce n'è pochi oggettivamente ce n'è pochi e detto in maniera brutale ce n'è tanti dall'età mia in su io ho 50 anni a giugno dall'età mia in su tanti che c'ha più tempo da dedicacce non dico tempo da perderci il ventenne vuole la foto subito è brutto da dire però è così se noi lo portiamo a fare le foto in un safari il ventenne si innamora della fotografia naturalistica istantaneamente si compra il 500 f4 con la canon r3 che costa 7000 euro quando va viene con me su ai civillini che fa 8 foto dice e io ho speso 15.000 euro per 8 foto no però è così è un genere un pochino per persone che hanno più pazienza e ripeto io sono uno che ce n'ha tanto poca ma posso garantire che quando te devi fare 6 ore di camminata la pazienza te devi venire per forza te devi venire per forza la passione sì ma la passione la sentite anche semplicemente da come parla cioè io posso è due ore che discordo ma potrei starci in altre 5 ore perché mi diverto proprio a parlarne potrei fare mille aneddoti di tutte le uscite che ho fatto però io vorrei vedere nel tempo tutte le persone amanti ma è spaziale cioè testate quante volte sei partito 20 volte primo anno 20 volte 30 volte secondo anno sì ci sta allora io ho iniziato ripeto 7 anni fa e uscivo sempre con un ragazzo di Cremona che avevamo iniziato insieme stesso workshop primo giorno lui si è comprato me lo ricordo come fosse ieri Nikon D5 nuova 402.8 Nikon nuovo ha speso 20.000 euro dopo due mesi e mezzo ha venduto tutto due mesi e mezzo ha detto sì è bello mi diverto ma io vado in palestra mi diverto di più alzo le mani in due mesi e permetto in due mesi e ti garantisco io Macerata lui Cremona abbiamo fatto 15 uscite tutti sabato e domenica tutti andavamo all'Argenda andavamo Valli di Comacchi Orbetel obiettivo 14.000 euro eh 14.000 euro di obiettivo sì ma non spendi 20.000 euro io alzo le mani io ripeto io ripeto allora settimana scorsa eh stavo puntando la Canon R6 Mark II vedo usata bella precisa preciso prezzo quello che mi piace vado a parlare chiamo al negozio la venduta 10 minuti prima c'è stata un'ora e mezza quella macchina e io me la puntavo da un anno e mezzo la R5 al momento per me non dico che non è raggiungibile ma 50 megapixel sì funziona ok a me serve un pochino di più l'autofocus 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 della R6 Mark II al momento è avvicinabile solamente dalla Alfa 9 3 me ne spiace perché forse no scusate è Z9 non mi ricordavo la Z9 ma comunque per gli modelli tre corpi macchina che costa 6.000 euro uno siamo arrivati ad un punto in cui per fare questo genere fotografico non dico seriamente ma in un modo un pochino soddisfacente soddisfacente esatto che comunque io ho detto lo zaino mio senza fare il fenomeno ho 15.000 euro da attrezzatura comprata in 7 anni facendo sacrifici perché io mi sono comprato il 500 F4 e non sono andato a cena per tre anni c'è poco a metà sai perché a me che c'è quello se io dovevo scegliere tra prendere quelle 100 euro e mettere sul mucchietto o andare a cena fuori io mettevo i soldi sul mucchietto settimana prossima vado al Gran Paradiso io settimana prossima non vado a cena fuori permette la parte quelle 100 euro 20 gasolini poi magari dopo in macchina perché sono dal mezzo matto che dormo in macchina per risparmiarne quelle 50 euro perché chi se ne frega per una notte in macchina non mora nessuno però lo faccio e mi ricordo uscita le foreste casentinesi che stanno a tre ore di macchina partenza alle 2.15 appena uscito all'ufficio foreste casentinesi si arriva alle 5 si parcheggia vicino al punto finale della strada un'ora di cammino appostamento per i live fotografia i live si ritorna in macchina si dorme in macchina si mangia un panino giorno dopo alle 4 si riparte si fa un'ora si va lì si fa le foto fortunatamente altre due ore alle 8 si passa e si torna a casa se vai a pensare io sto fuori un giorno ho fatto due uscite in un giorno ho dormito in macchina e mi ha fatto un panino mi guardi lo fa torno a dirti ho 50 anni se io penso a mio padre che quando c'aveva 50 anni c'aveva me c'aveva 25 è l'altro riscorso per carità però si tu c'è un piccolo tu lo faresti? tu si sei giovane non è normale però però se diciamo non lo so se lo faresti forse meglio conoscendo conoscendo ti vuoi essere pure io però capite a un certo punto se lo vuoi fare ripeto non professionalmente ma un pochino serio bisogna dedicarci a tempo io il pomeriggio oltre che fai video per youtube mi diverto a cercare passaggi nuovi per fare una post-produzione più veloce in primis è più bella più veloce perché è una palla dalla post-produzione perché c'è poco è una palla poi se ti riguardate 2.000 foto e da quelle 2.000 ne devi fuori 4 ti prende anche le madonne perché è così e c'è poco come inventaste allora post-produzione da devi migliorare c'hai tempo perfetto se no se no spendi 100 euro vai da 1 e ti fai il corso perché quello che ho fatto io corso di post-produzione workshop l'ho fatti 5 e 2 a Luzzo per conoscere i posti a Balezo per conoscere i posti a Toscana per conoscere i posti a me che mi fregava che mi imparava a fare la foto mettita di basso lo so che mi hanno messo a basso dopo che ti vedo oppure non è che me lo vissi a tì però conoscere i posti adesso so che se vado in Luzzo vado lì e ci trovo questo questo e quest'altro magari moltissimo è stato dopo che ci sono tornato 500 volte per conto mio c'è stato un subito dopo il covid in Luzzo ci sono andato sabato e domenica sabato e domenica sabato e domenica per 2 mesi sempre da voi lì partivano la mattina partivano sabato e pomeriggio pomeriggio di foto si dormiva domenica domenica di foto fino alle 4 di pomeriggio si ripartiva e allora tutta l'estate non si poteva andare più da tanto fuori ma è un ruso fai le foto per lo meno devi vedere in quanti non dico che so di essere chissà chi perché ripeto se fossi tanto detto delicatamente non starei a fare i disegnetti starei a fare le foto in Costa Rica magari adesso come fa valsa allora così c'è chi può e chi non può io mi dico io ho conosciuto un ragazzo un caro amico lui ha tempo perché è figlio di industriali la fabbrica è sua e il pomeriggio ha tanto tempo libero ci siamo conosciuti c'erano entrambi 6.000 follower su Instagram io ce ne ho 32.000 lui ce ne ha 500.000 perché tempo da perdere foto fatte in luoghi esotici se tu mi fai la foto in Finlandia all'orso non è la stessa cosa di fare la foto a un orso in Slovenia sul capanno per quanto possa essere particolare attrezzatura top possibilità di di fare collaborazioni perché viene chiamato oppure conosce è così cioè io mi ricordo Michele Vassano che conosco benissimo lui mi ha detto io ho fatto lo step quando ho finito la scuola che mi sono dedicato 24 ore su 24 a questo prima andavo a scuola e c'è poco come fa a 19 anni ho cominciato ma a 22 io faccio la professione Instagram a 22 anni adesso ce n'ha 28 e gira il mondo da 6 anni 6 gira il mondo perché lui sta in Italia Albert Mito un mese adesso sta in Costa Rica la settimana scorsa stava in in Tibet no in India a fare Leopardo de Neri cioè Leopardo de Neri ce ne sta 200 in tutto il mondo lui l'ha fotografato quando c'hai questa non dico possibilità ma anche capacità di comunque arrivare a quei livelli è bello ebbene ve lo dico io che il mio livello per quanto possa essere infimo perché sto a livello bassissimo comunque la soddisfazione di vedere una foto del genere o questa da soddisfazione è una foto insulta però mi da la soddisfazione sapere quello che ho passato per arrivare qui a fare sta foto ma divertito oppure questi due che erano aspettati e si baciavano per il X tempo questo che stava lì a fare lo stupido qui non si vede però destra e sinistra le due stavano di fianco quante persone si sono state 50? questa questa è la foto che avrei potuto fare quel giorno solo questa foto cucciolo che si allarga fine tutte le altre foto di quella giornata un volpe che vola così la domanda l'ecchia con la coca è così come no? si soprattutto quando vai il cerchio che vola oppure quando ti attorno un brano si come non lo tendo proprio tendo una macchinetta o quasi io te ho più due verti eh le guardi perché se no come le fai quando gli uccelli a volo tengo l'obiettivo con l'occhio libero guardo guardo il coso cerco di puntarlo ok perché se no se è un soggetto statico guardo direttamente che ti faccio dalla testa però tantissime volte soprattutto facendolo io sto così vedo un uccello al volo tac e ce l'ho già al centro dell'obiettivo gran parte delle volte adesso mi capita così però tu considera che agli inizi sempre guidato dalla passione io stavo in terrasso di casa con piccioni così lo puntavo lo puntavo a chi può andare a tirare al piatello tirare al piatello chi tira al piatello è fotografo monodomunista per eccezione cioè per definizione perché tira su e punta sicuro l'uccello è sicuro mi raccontava se a me mi dai un randangolo io faccio più difficoltà a mettere il soggetto nell'obiettivo perché io sono abituato io sono andato col 500 il primo obiettivo che ho avuto è stato il 500 tiro su e punto anche senza guardarci adesso io ci riesco non 10 su 10 7 su 10 tiro su e c'ho il soggetto lo guardo tiro e punto poi naturalmente c'è quello che si muove occhio libero guardo con quest'altro poi punto però sì il soggetto è statico e sta lontano se posso e mi rendo conto che comunque comincio a tremare perché ti rendi conto aumento la velocità cioè vado un millesimo 1 su 2 mila se è possibile cerco di bloccare le velocità lonturatore che se no se te ne faccio le diverse in foto il soggetto sta fermo poi se vede che sale semplice anche veramente il semplice respirare ma tanto anche il semplice respirare sul soggetto anche quando c'ho montata sulla sulla testa soprattutto sulla cinta ti devi mettere puntare sul sopracciglio l'oculare il più lontano possibile la mano per averci il massimo dell'estensione per bloccare il più possibile questo movimento tu stai così se non punti qui devi avere almeno tre punti di contatto occhio spalla e mano più lontano possibile io solitamente fotografo così non fotografo così metto la mano sul paraluce non sull'obiettivo per averci il massimo dell'estensione braccio esteso pena che faccio così ecco io pure in palestra che costo pure i soldi per la palestra grazie sei attire l'attenzione grazie però ce l'ha fermata e mi trovo che dice più eh lo so il fatto è sforotato tanto discorso non lo faccio eh dire attenzione che tu senti l'agio senti l'agio ma no ma si è bloccato il cellulare si è invita la memoria del cellulare ah mi raccomando eh lo dico semitemi sul canale youtube è importantissimo sì sì no davvero davvero perché lì ci trovate diverse uscite e spiego anche il posto dove ho fatto le foto eeeh io non ricordo no grazie 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 quindi sta foto l'ho fatta giù a Villa Lago era mezzogiorno e mezzo è una foto che non c'è niente però c'è va a vedere è inidita vedete cioè io quello che mi porta a farlo è questa foto poi questa questa per dire è fatta a mezzogiorno lo so di venire a fare la vostra produzione se no questa foto è fatta a mezzogiorno questa foto se io conto 170.000 foto che c'ho bene vera che ancora mi ricordo esagero 10 devo trovarti quell'altra che fondamentalmente è la prima foto che posso dire che mi ha dato soddisfazione ma me l'ha dato proprio sia farla che anche ricevere che bella foto perché perché è bello leggerlo oggi sta voglio farvi vedere la foto dei tre cuccioli di Amarena la faccio troppe 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 allora adesso vi faccio vedere una foto che su Instagram ha ricevuto 21.000 like cazzate del genere ed è un lupo fatto dentro il recinto di lupi di girella svera e io ho detto a tutti foto fantastica che bella che bella cioè è una foto oggettivamente brutta ma brutta perché è una foto semplicissima fatta dentro un recinto l'ho dichiarato e magari foto decisamente il problema di chi fa la foto guarda quello che ha trascorso per farla non se effettivamente è una bella foto o meno allora ecco qua questa è la foto che ha raggiunto più like in assoluto della mia pagina è oggettivamente carina però quell'altra con i quattro cuccioli della mamma è più bella dal mio punto di vista questa ha raggiunto 27.000 like su 30.000 30.000 32.000 follower sì è bella per carità però non è così eccezionale dal mio punto di vista questa è molto meglio di sicuro dà più emozioni però quell'altra ha sui tre cuccioli quindi è più 12 12 dolciotta che io ne so è due 6 secoli sì però ma non c'è ah beh per dire qui una foto che mi ha fatto qualcuno no ho piastato una macchina fotografica lì ho messo a camminare e gli ho dato 10 secondi di tempo mi sembra e mi sono messo lì io no quest'altra me la fatta questa me la trovate nel suo piano con queste esperienze comunque hai incontrato mai ragazze e donne che fanno assolutamente sì perché noi siamo più tantissime tantissime donne è una cosa bellissima tante 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 e poi le donne sono pure quelle più sì 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 sono anche si mettono tanto più in competizione cioè se lui è più bravo di me io sono contento cerco di imparare la donna no se è più brava di lei lei sta incazzata con una bestia nei tuoi confronti cattiva proprio le genere sì 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 ma ed è cattiva non mi dico cattiva però diciamo invidiosa anche il dove sta quella forza a me questa forza è quella quale questa l'ho scattata a fortuna è stata una sequenza quindi quindi i conti li ho seguito e mi è capitato che mi fosse dal sole questa è stata forse era due mesi che scattava questa questa no no diciamolo che questa è oggettivamente sì 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 ma la sentenza mi chiede se per fare un anno mi sto a livello basso sì quindi una domenica in cui uno dice voglio venire a vedere qualche posto qua vicino una volta ho mandato di mangiare qual è la lunghezza totale di mangi se esiste un uomo di mangiare e poi un minimo affacciare questo in primis dipende quello che vuoi fotografare dici camusci 300 sufficienti di usare in genere in generale più millimetri meglio è allora 200 già allora questa per dire è fatta con 600 millimetri messo a 150 150 600 però questo è questo bambolotto che sta appoggiando lì sopra sto ma sta fermo le ore se non c'è nessun disturbo ti sposti già di qua se sta in fase di amori questo non sta fermo un attimo è un finicottero che trovi al bordo strada può essere ce lo trovi fermo sulla gamba ore e ore nei periodi di copa di lotta per le femmine questo sta per un secondo il frattino tam 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 ta tutti i passi riformi frosone del cingiarello è complicato se lo fai uno su duemila soprattutto almeno 500 millimetri perché se io dovessi fare questo a non riesco a fotografare a farlo di formalizzare allora questo fosse stato così era 200 volte meglio era così quindi qui ho 600 su questo se fosse stato io 5-6 metri più avanti la foto era questa e era l'altra foto sarebbe stata decisamente più nidida anche se questa è nidida però è stata la cosa questo fatto con 500 questo è il gesto tipico dei daimi degli stambetti e dei gamoshi si allontanano e si girano si allontanano e si girano ci vedrai mille foto dei gamoshi dei daimi ciao grazie ciao buonasera mille foto di gamoshi dei daimi e stambetti così perché non c'hanno paura sono curioso si allontanano e si girano si allontanano e si girano tantissime cose così vediamo però è questo più da l'altra si allontanano e si girano si allontanano e si girano senti allora se io ce l'ho l'obiettivo io ce l'ho se volete fare l'uscita io non ho problemi a non fotografare io vi presto tranquillamente sia il 500 che il 600 però ciocano dice Nikon no sono sincero io Nikon non ho mai 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 usato Sonis Panasonic pure Olympus Nikon mai 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 prese in mano vista però se mi dici come se regole le sue cose non c'ho neanche idea non è fatto al menù zero è meglio vedere a casa e si si va si si